Buonasera a tutti, a nome degli studenti e della comunità che abbiamo da tutta e a nome di tutti i presenti vorrei ringraziare il professor Bauma per aver accettato il nostro invito di essere stasera ospite dell'Unità di Sud di Siena e della città di Arezzo. Siamo letti di avere con noi uno studioso di fama internazionale che è riuscito a rendere accessibili a tutti le sue teorie, le sue idee e le sue ricerche. Crediamo che la sua presenza sia una grande occasione di attivamento e di confronto per tutti noi. Grazie a lei, professor Bauma, ciò che viviamo tutti i giorni ci è più comprensibile. Attraverso i suoi studi abbiamo guadagnato delle categorie interpretative capaci di attraversare la complessità di una società liquida, che è tanto più vivibile quanto più siamo capaci di interpretare le abilità. A Letto avrò piano la possibilità di utilizzare alcuni costrutti senza i quali eventi, relazioni, società ci sfrutterebbero meno chiaro, come è cambiato il mondo del lavoro, come sono mutate le relazioni dalle persone in una società tecnologicamente densa, come si sono ridefiniti i confini del potere. L'ordinezione di sui dissieme la ringrazia e si sente onorata la sua presenza. Buon lavoro e buona permanenza. Prima di dare la parola agli altri ospiti vorrei fare un ringraziamento particolare al nostro delegato alle attività culturali, professor Zacchini, che ha curato tutti i rapporti pistolari qui dall'inizio con il professor Bauma. La parola all'assessore Macri, che ha costruito un network tra tutte le istituzioni culturali presenti nel territorio, capace di offrire importanti traiettori formativi a tutti i cittadini. e l'evento di stasera, mia miseria, pesca. In chi vuoi allora? La parola al prolettore dell'Università di Studi di Siena, Francesco Fati, che è qui con noi. La parola allora al prolettore dell'Università di Studi di Siena, Francesco Fati e poi all'assessore Macri. Grazie, Loretta. Thank you, Loretta. I'm very happy to be here today and I'm very pleased of welcoming Dr. Bauman here at the campus Pionta of the University of Siena. I am particularly glad of bringing the warmest welcome on behalf of our institution and on behalf of our Rector, Professor Riccaboni, who is away, who is outside Italy in this moment. I also wish to thank Loretta Fabri and all the colleagues here at the Pionta campus for this great initiative that they organized. I think this give us a lot of sprint here and in the work of the university in general. There are many issues that we would like to speak and to talk with Professor Bauman. There are many questions that I would like to ask him, but I don't feel very competent in debating with him about philosophy and social sciences. I'm a natural scientist, I'm an exologist, so I'm not sure I'm in the right place here from a scientific point of view. But one thing that I would like to mention here is the about one of his arguments and this is the argument of diversity. I read some of the parts of the books that he has written and one thing that I was struck by was the importance of diversity. Well, the importance of diversity in human society is almost as important as diversity is in natural societies, in animal societies. And this is particularly important, the importance of diversity in this moment. You know, the Western world is characterized by a diversity of diversity in human society. And this is the importance of diversity in human society. And this is very similar to the environmental crisis. Well, in evolutionary biology tells us that the environmental crisis are always that species are able to tolerate evolutionary crisis because they are diverse. Because there is genetic diversity in natural species. So when you have genetic diversity, you have the opportunity of overcoming environmental crisis because new genotypes and good genotypes are selected to go through the crisis. Well, this is almost the same with human societies. And I think this idea reflects the importance of being diverse in our society. And I think this idea of being diverse in our society to overcome all sorts of crises we may be facing. I'm not, you know, I'm not wasting your time any longer. I again wish to thank all the people here in Arezzo, including, you know, the city hall, the mayor, and all his group of people for organizing this event. And I'm very glad to be here today. Thank you very much. 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 Non è possibile nascondere la commozione, l'emozione e la soddisfazione, non so in che ordine ma questi sono dei sentimenti che trafiggono soprattutto per essere qui presenti come amministrazione comunale all'interno dell'università e per essere testimonianza che l'unione delle strutture, delle antiche strutture e delle nuove attività culturali della città e un valore da non disperdere, da non dimenticare ed è un obiettivo da perseguire con indefessa determinazione. Ci ho detto, vi dico che stamattina ho già avuto il privilegio e l'onore di accogliere nella casa comunale il professor Bauman e l'ho ringraziato tre volte. L'ho ringraziato per essere venuto nella città di Mecenate, l'ho ringraziato per essere venuto nella città dove c'è una delle più belle opere di Cimabue, e questo perché il suo pensiero, che è un pensiero pervasivo e ristrutturante, rivoluzionario e costruttivo, ci ha permesso anche di comprendere questi grandi che sono stati a loro volta rivoluzionari e distruttivi. Mecenate, che si conosce soltanto per la parola mecenatismo, ma che ha invece costruito la letteratura latina, ha dato una lingua all'impero romano e ha, che era affritto da una medesima malattia per cui siamo affritti noi a livello planetario. La lotta, la guerra spaziale, direbbe il professor Bauman, tra la globalizzazione e la localizzazione. A Roma stessa, in città, si parlavano tante lingue, le lingue frige, il liri, il greco, soprattutto il greco, ma chi parlava il greco? Solo i colti. Non è vero che non si parlava latino, si parlavano mille lingue. Questo problema della localizzazione è stato risolto da mecenate con la costruzione della letteratura latina, con l'epica latina, nel momento in cui i greci invece riepilodavano la loro lunga storia di cultura e di letteratura e di identità popolare. Identità guardata, identità frammentata dalle mille polis, ma identità culturale, non identità politica, identità culturale, non identità militare, identità culturale. E oggi siamo molto vicini a questo momento, a queste problematiche. Nella città di Cimabue, altro grande unificatore di pensieri, Cimabue che riesce a collugare l'astrazione della mitenaria arte greca bizantina con le tensioni preumanistiche. Quindi, vedete, distruzione del passato per una ricostruzione. Dopo Cimabue, l'umanesimo, Masaccio, Brunembeschi, i grandi toscani. Dopo Cimabue, ma con dietro mille, centinaia di anni e secoli di cultura ellenistica bizantina. E gli ho dato il benvenuto nella città di Piero della Francesca, che ha parlato di spazi, così come il professor Bauman parla di spazi, e direi nello stesso modo, perché non era uno spazio geometricamente misurabile, come quello di Masaccio, come quello di Brunembeschi. Era uno spazio dell'accadimento, cioè un luogo. Uno spazio dove la storia si concretizzava. Uno spazio caratterizzato dalle presenze umane e dalle azioni umane. Quindi, il professor Bauman è qui, ci farà compagnia, ci insegnerà tanto a livello personale, ma soprattutto io spero che ci insegni a livello collettivo una struttura che può funzionare per un futuro politico, individuale, sociale, civico e cittadino migliore di questo. Grazie. Buonasera, per sollevare il carico della collega Loria Anderson, la mia pre-reppresentazione al professor Bauman è in inglese. Grazie a tutti, grazie a tutti. Il nostro canale è uno dei più migliori intellettuali in il mondo. Il nostro canale è famoso, leggere e discutere in contemporanei della filosofia, dell'accelerazione e della politica. Il nostro canale è seguito di queste cose, le sue ricche e delle scuole. In my task it is very hard because, as it is well known, Professor Barman is not a systematic thinker, but an extraordinary analyst of a contemporary phenomena, as he has furnished fundamental instruments in order to comprehend the human, social and political context of a modern or postmodern life and society. My background is in philosophy. I am a historian of the modern contemporary philosophy, not a sociologist. Therefore, I am not highly qualified to give a good profile of Professor Barman's extraordinarily successful and fruitful career, and I am obliged to emphasize only some experts. Postmodern is a term which can be used to define the present age opposite to modern. In this case, I have always been suspicious of postmodern. As a former pupil of Paolo Rossi, the celebrated Italian historian of ideas who, in the 80s of the past century, strongly criticized postmodern philosophy, I was very happy to read in a book by the German philosopher Otto Markmann, that modernity comes after postmodernity. But the concept of postmodern can also be used as an immunological instrument to make a diagnosis of modernity. Professor Barman can be regarded as a postmodern sociologist, but on condition that postmodernity is considered something which must be analyzed and criticized. Generally, one can identify two main topics in Professor Barman's philosophical and sociological studies. The first one is devoted to ethics, to postmodern ethics, to the place of ethics in contemporary philosophy and society. In 1989, Professor Barman published his Modernity Under the Holocaust, a very successful book, continually reprinted, which contains an analysis of the relationships between between modernity and racism and the proposal of a sociology of the Holocaust. The last part of such book is entitled, Toward a Sociological Theory of Morality, which focuses on the problem of morality, the three societal sources of morality, and the foundation of moral responsibility, and the foundation of moral responsibility, are at the center of postmodern ethics, which Professor Barman published in 1993. To my opinion, this book is still a very important contribution to the present discussions about ethics, about ethical relativism, and the risk to confer the right of establishing what is just and right on society. I must confess that only recently I carefully read postmodern ethics, and with profits. In this book one can also appreciate the relevance of Emmanuel Levinas' ideas on the other one. In my humble opinion, these two books confirm the role played by philosophy in the construction of Barman's sociological approach to the present age. The problem of the subject of identity, of identity, of the condition of the self in a postmodern age, is a topic in which various kinds of scholars have been interested for a long time. It is sufficient to recall the relevance of Michel Foucault's ideas and their impact on many academic contexts. Barman is the most outstanding sociologist who has analyzed in two details the contemporary human condition and all the many phenomena linked to this condition. Liquid modernity, 2000, is an epoch-making book, probably the most important sociological book published at the beginning of the second millennium, and the forefather of many books by Barman or life, love, health, and so on. I must not bore you trying to remind you here one of the most famous aspects of Professor Barman's sociological project. A third topic interlacing with the preceding one is the political question, connected to some of the most dangerous obsessions of contemporary life. The decline of politics, the decline of politics, the crash of the public dimension of life, the loss of a public place for discussion, are the consequences of furthering the self and the state of thought, which are peculiar to contemporary life. In search of politics, 1999, and the missing community, published two years later, contained Barman's analysis and proposals concerning the public dimension of human and social life. In 1975, let me conclude with a not famous now philosopher. In 1975, at Berkeley, Herbert Marcuse presented a lecture on higher education and politics, in which the German philosopher invited the students to do, outside the university campus, community work as an instrument for a significant political activity. Today, Professor Barman underlines that, unfortunately, community has become a very problematic and out-of-date world and concept. I also wish to thank Professor Barman for being here in Arezzo, and I am sure that this lecture this evening will open new paths for reflection and instruction. Allora, veramente brevissimamente, il collega Ferdinando Artvi ha dato il benvenuto al professor Barman, che, come sappiamo, è uno dei più famosi analisti della situazione contemporanea, e quindi, diciamo, dal punto di vista sia moderno che postmoderno. Essendo filosofo e non sociologo, si è limitato a fare alcune riflessioni personali basate sulla sua lettura dei libri, appunto, dal professor Barman. Ha menzionato in particolare il libro del 1979 su postmodernità e l'olocausto, che, appunto, riguarda, diciamo, l'approccio sociologico a questo evento. Ha poi parlato del libro del 1993, Postmodern ethics, che è un approccio, diciamo, a questioni, diciamo, dell'etica e morale, da un punto di vista, una riflessione sulla questione del relativismo. E, infine, ha menzionato, scusate, il famoso libro del 2000, Liquid modernity, modernità in cui da credo in italiano. e ha menzionato, infine, diciamo, il lavoro anche recentemente del professore su il problema del declino della politica e, diciamo, il crescente mancanza di fiducia nei confronti delle strutture politiche dello Stato. E questo più o meno è il risultato. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 l'Itinerari, che ho fatto in Londra, perché è stato molto più di 80 anni, quindi ho avuto tempo per farlo. Tutti mi hanno fatto una condizione di quello che ho chiamato, che ho chiamato, perché prima di tutto quello che ho cercato a corretto durante questo periodo di vita, la mia vita è ancora abbastanza la grandezza delle problematiche che ci sono confronti. E devo te warnare che se hai sperato che hai avuto un'esplice, 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 un'esplice. Io credo che a la fine della mia vita credo e credo che non sono più migliore che ero quando ero iniziato. Ma più sicuramente sono meno consapevole nel termine validità dell'esplice che ero quando ero. E credo che il prossimo quartiere e il prossimo quartiere risolvere tutte le problemi. è un'esplice, 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 un'esplice. Ovviamente c'è quello di essere molto breve. Ha detto che ha apprezzato i commenti, diciamo, di chi ha parlato prima di lui e nello stesso tempo hanno causato una condizione di depilazione, come avete sentito, spaventosa. E questo perché, nonostante gli anni di studio e anche l'età avanzata, non crede di sapere, diciamo, le disposte più ordine di quanto sapeva da giorni. Quindi, ha detto che non è più saggiore di quanto era da giorni, semmai, diciamo, si sente meno sicuro di sé. E quindi, diciamo, era questo l'aver più dentro iniziato. Il secondo motivo è che abbiamo un'opportunità consapevole tradizioni, che significa che devo cercare la parte lezione in half. Ma, se lo perdete, se lo perdete, se lo perdete, per cercare la parte lezione, che è un'ammortata, da quello che è successivo dopo aver fatto il primo modello, che lo sognostra, che lo sognostra vorrei direi a più migliori tradizioni, che l'evolvano, che la prima parte. Ma, voglio cercare. E io vorrei direi che voglio parlare di più, ma che vorrei parlare, Mi piace, mi piace, Visto che c'è anche lavori di traduzioni italiani per circa l'età, ma non è l'età, ha detto che ha visto appunto che la traduzione è forse migliore dell'originale, non è vero? No, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero, facendo riferimento a Coetze, che è forse fra i filosofi viventi, diciamo, anche fra i migliori romanzieri, quindi a questo duplice veste. ha citato il suo diario di un anno cattivo, che è del 2008, in cui Coetze dice, si chiede come mai la vita deve essere come una corsa e come mai le economie nazionali devono competere tra di loro piuttosto che andare a fare un po' di giochi insieme. e perché appunto non è possibile vivere come le api oppure le forniche che appunto hanno una vita cooperativa. e dice che queste sono domande, cioè parola semplice, ma che vale la pena, non è vero. Noi, questo è tutto il problema, la questione di cui si chiede, e ho cercato con la collaborazione, per pensare all'interno e cercare di trovare un'idea, 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 un'idea. La questione sono, che invece ci chiediamo, che la gente potrebbe dire l'idea, un'idea di una nuova, un'idea, un'idea di nostri, un'idea di ciò che ci dimenticare, perché il mondo è grande, noi stiamo facendo, e non stiamo facendo le condizioni della nostra scuola. E le condizioni che noi stiamo facendo il mondo, che non solo accompagnano a noi, ma anche, probabilmente, sette le opzioni, le possibilità, le rispetto dei nostri figli, i figli, anche i figli non bambini. Questo è il risultato della nostra responsabilità per il Stato del mondo. Sono anche le opzioni fra le quali dovranno muoversi i nostri figli. Io ho detto che le condizioni che ci siamo obbligati a fare le nostre scuole sono molto complicati. E quello che ho in mente è che stiamo vivendo in una perioda di storia in cui Antonio Gramsci, il grande italiano filosofo, se fosse qui, se fosse con noi, se fosse con noi, si fosse con noi, si fosse con noi. Interregnum è un concetto che si prende di un'interregnum, di un'interregnum, di un'interregnum. Allora, quindi, facevo riferimento al concetto di interregnum, cioè il concetto, appunto, introdotto da Antonio Gramsci per cui ci si trova, in pratica, in un momento, diciamo, fra un assetto istituzionale e un altro assetto istituzionale ancora non del tutto formato. Io credo che è particolarmente fruttoso quello che ha detto prendendo un'interregnum di Tifa Livio solo per portare un'interregnum mental, per portare in un mood, per capire il momento presente che abbiamo. Il problema è interregnum. è un'interregnum di Tifa Livio, in order to descrivere cosa ha fatto in ancient Rome, after the death of the first legendary king of Rome, Roblus. Well, Roblus died after 36 years of being king of Rome. Now, 36 years of that time, or the average life expectation of the average person living in Rome. Which means, that when he died, or rather, when he was taken to heaven, that is the legion, he died normally. and after he died, most of the people living in Rome, never knew the world which did not contain Roblus. and they were used to the idea, the same way our children are used to the idea that tomatoes are grown in supermarkets, and they were used to the right kind of life come from the royal palace of Romulus. suddenly there was no Rome, nowhere to expect from the illumination, the guidance, the instruction of how to live. that was the period of independence. And there was no replacement for the time being to Rome. It took some time before Luba, the second legendary king of Rome, has been appointed. This period of independence, transitional period, was the, 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 what a time, when people were sure, of only one thing, that all the rules, are no longer working. But the new rules, have not been yet made. the first of all of us. I'm going to go on there. I think, the only one thing was about that, that party for one year, a very long time che era un periodo molto lungo, ovviamente all'epoca, e quindi i romani all'epoca, diciamo nel momento della sua morte, non avevano vissuto, non avevano il concetto di un mondo che potesse esistere senza Roma, senza Roma, diciamo, un po' nello stesso modo che i nostri figli pensano che i comadori appunto si crescono nei supermercati. E quindi era un punto, questo era quindi un momento di intervegno, cioè fra il momento della morte di Romolo e c'è voluto del tempo prima che si arrivasse poi a trovare il re successivo, un momento quindi di grande incertezza. So, to put it very briefly, l'intervegno è un momento in cui le persone sentono che le vecchie mani di fare cose, che si considerano di essere proprio, proprio e effettivi, non funzionano più lungo. Ma le nostre mani di risolvere problemi sono ancora in questa fase di design. E' una situazione molto lunga, la discrepancia tra le complessità della situazione, le persone con la capacità, le persone con la capacità, le risultate, le strumenti, con la capacità, le strumenti, le strumenti, le strumenti di fare cose, le strumenti, le strumenti di risolvere le strumenti. Però si tratta di una situazione complessa in cui ancora questi nuovi strumenti, nuovi approcci devono essere elaborati. The question is how we have arrived at this moment. How come that we are again in the period of interregnum and probably more severe than the interregnum which we know from the past. We need to go back a little bit to history, actually about four centuries back. I think you remember that there was at some point a very very ferocious and devastating war, religious war going on in Europe. After reformation, war between reformation and counter-reformation, Europe was at that time virtually half destroyed. In one German speaking areas of Europe, for example, according to historians, 50% of the population just like dead in the result. of the battles and the epidemis which followed the battles. And in the year 1555, the delegates of the ruling dinasties of Europe congregated in the German town of Augsburg in order to file the formula which would put an end to this catastrophe. I invited to go back to 400 years at the moment of the reform protestant, in which a number of people were murdered in conflict. and the delegates, having come together to Auschwitz, spending there quite a lot of time, came up with a formula, to put an end to interracial warfare going on in Europe. The formula, probably known to you, is Cuius Regio Eus Religio, which means whoever rules have the right to decide in what kind of God his subject should believe. It is a principle of territorial sovereignty. That was the most important essence of the agreement, which was accepted in Augsburg. It took forever almost 100 years, until the year 1648. Another portion, another measure of devastation, which visited Europe, when a second conference, this time in Münster and Ostabrück, confirm the formula as the obliging binding principle of organization of human cohabitation in Europe. He has referred to two important moments in the European history and the first, in 1555, in Augusta, which, according to the conflict related to the reform protestant, has established the principle of Cuius Regio Eus Religio, cioè di chi è il potere, di lui sia la religione, ovvero che chi, diciamo, il regnante, il sovrano, aveva il diritto di dettare, appunto, la religione che doveva essere iscritta dai protesti di D. Questo è stato poi di nuovo ribadito nel Trattato del Vespada del 1648. Quindi l'idea, in poche parole, della sovranità territoriale, e quindi, diciamo, della cultura o del territorio da parte della sovranità. Slowly but steadily, this formula, could use the idea of this religion, with a slight change, instead of the religion, people started thinking about Nazion, so it was not the rules besides. which God, is the God real and true, but first that whoever is a foreign or a territory, has the right to decide what nation rules and what will of which nation rules the territory under his command. This formula became the only present guiding principle of our community frame, in which our ancestors, in critical search, look around and compare what we see, and how we map the world, how we divide people and so on, and also the unwritten assumption of our thinking about the reasonable, rational way of proceeding whether people face important problems that looked for their solutions. So, this principle, of the importance of the sovereignty of the sovereign evolved in the idea of the sovereignty of the nations, of the nations, so the idea, of the principle, that they should guide, in the way, that they should see the social life. of the nations. Well, as the disease that was wrong, once observed, constructively, Europe is the only continent of the world which was never conquered by other continents, and Europe is the only continent which discovered all other continents without ever being discovered by other continents themselves. Now, that's the EU situation in Europe, explains why it was Europe which set the tune for the rest of the world. The formula born in Augsburg, Mimster, Ostapug, was spread all over the world simply because of the colonial enterprise, of the episode of imperialism, the colonialism in European history, our fathers, and grandfathers, brought into all parts of Africa, to both Americas, to Australia, to Greece, to Asia. Now, it became a principle of the whole planet. Principle of territorial sovereignty. Every group of nations surrounded by other group of people, national group of people, ethnically united, surrounding itself with the state borders, has the unencroachable, indivisible, right to decide how people should live their life on their own territory. Allora, Allora, prima, a part of the comment that this concept, quindi, di sovranità territoriale, ovvero il concetto che ogni gruppo etnico o nazionale ha il diritto di decidere all'interno dei propri confini come dovrebbero vivere le persone, è un principio che poi si è esteso, diciamo, dall'Europa, diciamo, agli altri continenti. Questo perché? Perché l'Europa è stata, è stata l'Europa a scoprire, tra virgolette, gli altri continenti e non viceversa. Quindi, diciamo, è legato, diciamo, all'impresa coloniale dell'imperialismo. La storia dell'aspetto sovranità, dell'estate sovranità, dell'estate sovranità, dell'estate sovranità, è stato elaborato da molti membri come Pacchiavelli, Jean Badin, Hobbes, e in attenzione la idea che la sovranità politica, la capacità, la capacità, la direzione per fare le decisioni sono basati su tre, almeno tre, essenziali sovranità. Alcuni sovranità, si puoi chiamare, una è stata la sovranità militare, e in attenzione una capacità, la capacità di defendere il territorio contro la grattacione oltre, 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 difendere la interferenza di un'altra parte. Da, l'economica sovranità, l'abili azzare i bambini e le imposte a rilassi e che le imposte a la comunità e le imposte all'interno la cultura di sovranità, tutte le culture di sovranità, tutte le regolazioni, tutti i principali, tutti i regolamenti che sono necessari per le persone come voi e me, per andare a vivere e per uscire qualsiasi corse. Tre, sovranità, militare, economica e cultura. Ora, sono arrivato da dove ho cominciato, chiedendo la domanda, come siamo arrivati per il periodo interagio, e la mia risposta è che siamo arrivati qui perché tutti i trei legati di questo tipo di sovranità sono molto, molto morbido, per direttamente. e se non si compara la compagazione di legionati, che era una pre-edizione, un pre-variante di legionati, che abbiamo ora, in legge o nazione ci sono solo 36 politiche uniti abitati. Ora abbiamo più di 200 paesi. Cosa significa? Che siamo più devolenti, più democratici, più liberali? No, it simply means that these three sovereignities are not necessary conditions for the principle of political territorial sovereignty. Or rather, it means, and that is the more likely, more provable explanation, it means simply that the principle of self-sufficiency, of sovereignty, no longer is the basis for the separation of politics. Allora, partendo dal concetto di sovranità territoriale, è passato ad una considerazione di una sua conseguenza, diciamo, da un punto di vista classico, di solito la sovranità territoriale veniva associata all'idea di autosufficienza, per quanto è autosufficienza militare, economico e anche culturale. Militare perché si dava per scontato che lo Stato nazionale poteva difendere i propri confini, economico perché è in grado appunto di fornire tutto ciò che serviva ai propri cittadini, e infine anche culturale perché è in grado di fornire i modelli culturali necessari. Ha poi passato ad osservare che in questo periodo dove vi intervengono, diciamo, queste tre certezze non ci sono più. Infine, paragonando la situazione attuale delle Nazioni Unite, dove abbiamo, diciamo, più di 200 Stati, Nazioni partecipanti, alla situazione ben più semplice della Lega delle Nazioni, che erano solo 36, e proprio per far notare che difficilmente possiamo dire che tutti questi Stati, diciamo, partecipanti attualmente alle Nazioni Unite possono essere considerati autosufficienti. Anzi, ora andrà avanti a dirci che... Per il territorio, ovviamente, il territorio self-assertione, è diventata un'illusione, perché ciò che succede nelle ultime diverse tanti anni è la rapidamente globalizzazione della interdependenza interdittura. Il problema è che in questo momento siamo già mutuamente dipendenti su cui il planeto è lungo e lungo. Tutto cosa che succede in Arezzo ha un'influenza su i prospecchi di persone che vivono in New Zealand. Non lo sovano, non lo sovano, ma è un fatto. La gente in Europa e in Osmila sono accolta che cosa succede? Cina cresce in potenza, diventa in potenza, diventa in potenza. Cosa influenzazione dell'influenza della vita in Europa avete? Ma l'altra cosa è che la dipendenza è, come in altri casi, virtuale. Ci sono dipendenti, i nostri bambini, i nostri bambini sono dipendenti sulla distribuzione di potenza del mondo. Ma l'influenza di tutti. Se, per esempio, ci sono davvero in problema. Se non riesce a risolvere l'economia dell'Italia dell'economia dell'economia dell'economia, e ciò che si accolta, perché c'è la città di 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 città. Se il mercato, dove si accolta, i nostri bambini, i nostri bambini, i nostri bambini, ciò che si accolta, il miracolo economico in Cina non è così lungo. Ciò che si accolta, diventa un'attività di città di città di città di città di città di città. Il problema è che la formula creata in Augsburg, Osternberg e Minster, è ben servita. Il lavoro del nazionale diventano diventano sovrappone e indipendente, è ben servita il processo di creare indipendente. che non sono necessari per servire la situazione di interdipendente. Il concetto di base è espresso di avere appunto l'effetto della globalizzazione negli ultimi decenni, che ha portato ad una sempre crescente interdipendenza fra nazioni e persone che abitano in punti anche distanti del globo. Dato l'esempio di Arezzo, che anche se non ci pensiamo, ciò che facciamo può avere un impatto, per esempio, in Nuova Zelanda. Poi ha parlato della Cina, che ha, diciamo, le decisioni e l'andamento cinese, l'impatto sull'Europa. Ha sottolineato che questa interdipendenza è reciproca. il Cipro Capardon ha dato, diciamo, come esempio, la recente crisi del 2007. In pratica, se va in crisi, il mercato europeo è comunque una preoccupazione anche per i cinesi, perché il mercato europeo, appunto, assurde, diciamo, le energie che vengono, appunto, i prototipi, per cui non possono diminuare, diciamo, la crisi anche se istante, e non toccare direttamente. Perché non ho detto che la situazione di interdipendenza? Beh, ho detto che il processo di globalizzazione e il processo di globalizzazione qe invece si vuole conoscevano rete. Come si mostriamo della crisi. Ho detto, penso successo di dinamore, Quindi si ispiramento alle principali della crisi da tutti La politica è la capacità di decidere quali cose dovrebbero fare. Ora, per molti anni, la gente crede che il territorio sovranico è un caso che può agire effettivamente. Perché? Perché hanno potere e la politica. La maggiore di potere e la politica era considerata a fare in heaven, e la nostra humanità è un'attualità. Ora, questo è successo. Ciò è vero. È impossibile. Non è vero. Un grande deal di potere, è un grande deal che è stato stato evapato dal nostro livello in l'espasso di cyberspace, in l'espasso di flore, dove è fuori di controllo politico, di un po' extraterritorale, che è libero di un posto a un altro, che è libero, è un po' extraterritorale, che si conosceva, il momento è possibile negliare, ma non potere e perdere le risogeni di alle popolazioni e della nittà di un po' teresa. Oltre a che si ha provato. Oltre a che si ha deciso d'eleire. La politica è stata bello sitevolta, come aveva dato, quanto Antonio cominciano. Non è vero, a quando. le decisioni che sono ottenuti nei politici politici, che sono gli organi del Stato nazionale, sono attenti solo dentro del framework del paladarco di questo Stato, ma non più oltre. Qualcuno ha deciso, la Roma ha no validità, no direttamente power, 2 miles in L.A., 2 miles beyond the Italian borders. Il potere e la politica non sono più uniti, non è un bisogno. Il potere è inteso come capacità di far fare le cose, la politica è appunto come capacità di decidere che cose si dovrebbe fare. Quindi far notare che il potere o la capacità di far fare le cose ora sempre di più si è spostato nel cyberspace, quindi diciamo in quello che si chiama a volte anche lo spazio dei flussi. E questo ha come conseguenza che le necessità e le volontà della popolazione locale non vengono prese in considerazione. La politica invece rimane ancorata come lo era ancora già duecento anni fa al territorio locale o al territorio nazionale e quindi le decisioni che vengono fatti dagli ordini politici sono valide di solo per il territorio di riferimento. So, on the right hand, we have in our world today, in the state of Interregio, we have power which is exempt from political control, sovereign power without constraining politics. And on the other hand, we have politics which is suffering of a constant insufficiency of power to do things. The government of every country, however big the governments are, however strong the country is, are in what can be called, what psychologists call the double bind, double bind, double pressure, trashing through opposite direction, impossible to reconcile, creating schizofilic division of personality, double bind. On the right hand, every government, because governments, particularly in our democratic countries, are elected, are elected by the population, are elected by the population, are elected by the population, therefore they are bound to listen to the population, to the wishers, to the preferences and so on, and even promise to deliver on their promises. On the right hand, however, they have to face the reality of interdependence. I don't know whether it's interdependence, because our culture today is not culture of learning and remembering, but culture of marketing. But once upon a time, Monsieur Sarkozy was President of France. And at that time, when the eternal Chancellor of Germany, Madame Becker, was already the Chancellor of Germany. when there was a crisis, crisis in Greece, the other, in Berlusconi, Italy, or Spain, the Battle of Spain. And Madame Becker and Sarkozy were even obligately called at that time, Berkosy, Berkosy, just to join the debates. Because they kept meeting every week, in order to decide, in universal commerce, what to do with these troubles. They normally met on Fridays, when the stock exchanges were at the close, made a decision to pronounce them on evening news, and waited, also with trepidatio de tremendoza, until Monday, when stock exchanges were very open, and all the time they would go over everything, they would come out of the decisions. Now, these are realities. That is the reality of double time. listening to two different sources, which are very difficult to reconcile. If you do something, which anchors your population, your electorate, you can be sure that you won't be again by Minister or President. But if you do something, which anchors the bank, the travelling entrepreneurs, the investment fund, and so on, you can be pretty sure that there will be an economic catastrophe in the country, because they will simply run away, where they can find more, well, peaceful, and more obligatory, and more frightened. Local governments, and above all, local governments more eager to take the right for making decisions with daylight. In the next third question, please... All right. All right. All right. Perfino ho sentito molte risate, quindi penso diciamo che avete più o meno seguito, comunque diciamo parlando del concetto del doppio vincolo, double bind, ovvero una situazione schizofrenica per quanto riguarda la politica a livello degli stati nazionali perché c'è questo problema di insufficienza di poteri, ovvero questo potere che prima era legato in maniera stretta al fatto di detenere i poteri territoriali, la sovranità territoriale non c'è più. Ha usato come esempio questa situazione a seguito della crisi del 2007 in cui l'allora presidente della Francia Sarkozy e Merkel che ancora ovviamente è cancelliere tedesca si riunivano solitamente ogni venerdì per cercare di fare un po' il punto della situazione e magari facendo un annuncio diciamo congiunta nella speranza che questo poi avrebbe avuto un effetto di qualche tipo sull'assecro, l'andamento diciamo delle borse e quindi aspettavano appunto con la crepitazione spaventosa appunto la riapertura delle borse di lunedì mattina. Grazie a tutti. 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 ma anche i principesi di democrazia. La gente, da loro loro esperienze, comincia a capire che il governo può fare molto poco, per metter loro demanda. Non aspettano che il governo sia potuto soltare i profesi. E hanno ragazze di farlo. Perché il potere di lavorare, che non è più un governo di controllo. Il governo non può riuscire tutte queste funzioni, che quando ero ragazzo, sono considerati non solo per loro propria, ma per loro unico privilegi. Solo potrebbero prendere queste funzioni. Funzioni come assicurare i loro cittadini contro le condizioni e catastrofiche di vita. Sicurando le basi, essenziali condizioni di vita, come l'educazione per i bambini, il servizio, oltre le basi, le pensioni, le pensioni, le pensioni, le pensioni, e cose così. Alla queste funzioni, che sono realizzate dal Stato, sono ora, che sono enti, le pensioni, le pensioni, che sono in cui non politiche, oltre le pensioni, non politiche, le pensioni. non sotto controllo del governo, del Parlamento, di questo. Ogni individuo, ogni individuo qui, ogni individuo, di fatto, deve avere un'idea, un'idea di tecnica, è sperata di trovare soluzioni personali e individuali per produrre problemi sociali. Simplemente il Stato non è potuto fare questo a nostra propria. Allora, ha usato la metafora, questo in inglese, collateral casualties, che sarebbero le morti di civili durante un conflitto armato, per parlare di questo concetto di perdita di fiducia, cioè come conseguenza di questi sviluppi, la perdita di fiducia da parte dei cittadini, non solo nel proprio sistema politico, ma anche in generale nella democrazia. Questo è dovuto a una percezione che i governi non sono più in grado di risolvere i problemi dei cittadini, che i governi non sono più in grado di assolvere delle funzioni che prima si dava per scontato, per esempio, diciamo, l'istruzione gratuita, diciamo, la copertura, appunto, per la salute, eccetera. Queste erano funzioni che prima erano dello Stato, ora sempre di più vengono all contracted out, cioè delegati, diciamo, a enti terzi, insomma, oppure cadono sulle spalle dell'individuo che, diciamo, viene in pratica, diciamo, invitato a trovare delle soluzioni individuali per problemi socialmente prodotti. molto interessante. Sì, c'è una ricerca molto diversa, ma un elemento, uno dei due elementi, che si può essere abbastanza constante e universale, è la speranza dell'opportunità della politica politica. e se guardate le realità politiche, se guardate TV News, se guardate le notizie, sapete che le persone sentono, sapete da loro comportamenti. Siamo vivendo in un periodo molto intenso, molto desperato, se guardate le mani che si guardano nel periodo di politica. Petite, le imprese, le senti, le capitalse, il paese non aiutano molto, questo è il risultato, il risultato. Ci siamo per trovare qualcosa di più. Ci sono molto divertente, la città, l'indignata in Spagna, in Italia c'era il famoso evento Occupy Wall Street, di cui tutti i giorni avevano c'era un'occhiata, ma tutti i giorni avevano un'occhiata, che non avevano un'occhiata, ma non avevano un'occhiata che non avevano un'occhiata, ma non avevano un'occhiata, ma noi stiamo parlando, ma noi stiamo parlando, ma stiamo parlando, un'occhiata che cos'è un'occhiata che fa parte un'occhiata politica o una parte politica del espectro politico. E' generale distrazione. Il governo si può andare dall'aleggetto, 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 ma il governo in successo, all'aleggetto, sta a metà con il stesso modo di distrazione. Da sondaggi e anche da osservazioni, diciamo, di eventi recenti, si osserva come un elemento che accomuna persone anche di vari, diciamo, che si colgono in vari punti dell'aspetto politico e una generale mancanza di fiducia nelle istituzioni politiche. e quindi c'è, oggigiorno, un'intensa ricerca di modi alternativi di fare politica. Ha fatto riferimenti agli indignati, per esempio in Spagna, tra cui delle manifestazioni pubbliche. Ha menzionato anche l'occupazione di Wall Street, facendo notare che, diciamo, non è stato, diciamo, notato da tutti appunto che era avvenuta. In questo modo significa che non so, che noi stiamo in a dei progetti, in a dei progetti. Non ho capito, non ho capito, non credo, cosa che sto dicendo, ne ho capito. Se mi provi a fare il futuro, non credo. Non ho capito, non ho capito, non ho capito. Ma una cosa che posso dire, La mia generazione dovrebbe risolvere questo tema generalizzato che crea la situazione dell'interreggio in primo momento. Questo è il tema della necessità, della tasca di rimarrere i politici che vivono in un stato di divorzio. C'è una grande domanda che dovete confrontare. C'è una domanda che dovrebbe essere fatto in un'obiettivo in capitol o in alcune domande che non apprezzano in particolare, o in cui dovrebbe essere fatto? C'è una domanda più open questione. C'è una domanda che dicono oggi, tra i Benjamin Barber, gli americani sociologisti, che il nazionale non ha un futuro. Il nazionale, basso l'idea dell'interreggio e di altre condizioni di interdependenza, non ha l'interreggio, non ha l'interreggio. C'è un'interreggio e la famiglia, la famiglia, la locale. E questo è il livello dell'interreggio, l'interreggio, l'interreggio. C'è un'interreggio. C'è un'interreggio in particolare, che si avvano all'interreggio come Alepp, che non sono un'attività più grande del mondo, ma sono un'attività per l'anno, un'attività per un tempo, un'attività che ha un'attività e la densità della popolazione, per portare insieme le due condizioni che sono necessarie per l'interreggio. Un'altra è una struttura, che è un'attività, 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 e un'attività, un'attività per l'interreggio, un'attività, 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 che si avvicinano, un'attività, 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 che non sono solo, ma anche, un'attività, 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 E' un'attività, in cui si può abbracciare, visuamente, intellettualmente, le tipo di tassi che tutti in la città, si avvicinano. che si avvicinano. Non sto dicendo, che sia il risultato, che sia il problema, ma solo, che sia chiaro, come disperse, come diversificate, tutte le tipo di ricette, per curare, le attività, di un'attività, di un'attività. Allora, quindi, dice, ovviamente, siamo, dunque, in un momento, di transizione, a metà di un processo, non ha, ovviamente, l'attività, di prevedere il futuro. Vi tiene, tuttavia, che, il problema principale, che ci è pronto al momento, è quello di, remarry, power and politics, cioè, attualmente, sono, diciamo, in un stato di divorzio, di potere, e la politica, e bisognerete, diciamo, di nuovo, diciamo, convogliarli a nozze, diciamo. non sa se questo può avvenire, in qualche, diciamo, grattaccello, da qualche parte, se, invece, può avvenire, in un contesto, di un qualche, quello che dice, un luogo globale, quindi, forse, organizzazione. Quindi, a quale livello, non è chiaro. Certamente, non è a livello, del, del, diciamo, stato nazionale, suggerisce che, e, forse, a livello, forse, della famiglia, del luogo di lavoro, e, forse, ancora meglio, al luogo, appunto, del centro oceano, quindi della città, perché, diciamo, questo rappresenta, fatto, quindi, riferimento anche a Terezzo, dicendo, non è, ovviamente, un metropoli, non è una capital city, ma è, comunque, una comunità, diciamo, con le sue tradizioni, il suo, diciamo, il suo risulto, e, ritiene, diciamo, che, abbia, diciamo, o offre, diciamo, almeno due caratteristiche, necessarie, per assicurare, una coabitazione, diciamo, umana, da un lato, diciamo, delle regole condivise, e quindi, quella necessaria prevedibilità, che, diciamo, il livello sociale richiede, e, poi, soprattutto, è un, un, un numero, diciamo, un, un nucleo, diciamo, un numero di persone, sufficientemente piccolo, che permette di, poter valutare, su base, per il quotidiano, le persone, non, in base alla categoria, a cui appartengono, ma, invece, in base a come, realmente, agiscono, come individui. come individui, come individui, ultimato, che facciamo, che facciamo, che facciamo, come individui, come, co-operativi, non lavorare, non lavorare, non lavorare, ma co-operare, ma co-operare, le persone, e le politiche. che facciamo, che facciamo, ogni cosa e, delle parti, che, ancora più, ma, le, 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 le persone. Le, 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 le le, le, la creazione del territorio. Uno di questi problemi è molto semplice, per fare un inventario di questi, e ho parlato proprio del campo, e cominciamo con il fatto che i geologi, i più influenti in questo branco di scienza, venivano a chiamare la nostra epoca in cui viviamo, con l'anthropoccia. Non è molto più lungo, ma l'anthropoccia. Cosa significa che ora il comportamento di una specie di una specie di terra, che è la nostra epoca, a cui ci siamo allati, è decisivo per la geologica della nostra branca. Abbiamo diventato di un'attività di un'attività di un'attività che possono cambiare il nostro pianeta più di più di un'attività che già stanno in loro. Ora, non è un problema che può essere solito solo in un territorio ma è qualcosa che necessita che necessitano che non sono in esistono. Organs di internazionali e internazionali internazionali e internazionali e internazionali e cooperativi. che non è la seconda è migrazione. Come si conosci la loro esperienza. Ci sono migrazione che stanno iniziando per la migrazione non è stata la prima volta in storia ma ora con una grande condizione in un modo in cui non siamo preparati a fare. Sì, allora quindi ritiene che il compito principale che appunto dobbiamo affrontare è quello di come fare sì che i poteri e la politica imparino a cooperare. inoltre è importante ricordare che ci sono alcune sfide centrali che richiedono questa cooperazione che sarebbe quindi urgente. Ho menzionato due. Uno è l'impatto delle attività umane su diciamo le head creator che adesso arrivano anche a tecnologico cioè praticamente le tecnologie ormai diciamo in mano agli umani sono molto più forti dei processi naturali e diciamo il problema di come affrontare questo non può essere affrontato a livello del singolo stato nazionale. stato nazionale l'altro diciamo il problema che voleva mettere in evidenza è quella della migrazione sempre più massiccia e di nuovo un problema che va affrontato ovviamente non a livello dello stato nazionale del mondo del mondo del mondo del mondo è forse forse andare a il mondo è un problema del mondo di un modo la formazione, la crescita la similarità tra tutti gli altri, quindi perché ti preoccupi di sviluppare un'articolo che molto presto diventano? Perché l'articolo di dialogo è un'articolo di un'articolo molto buon esempio di Papa Francesco. Quando si è stato preso per la parte di Vinovattica, il primo intervio che ha dato, in un'articolo, signor Scalfali, che è stato un'articolo di Sermico, un'articolo di Atheist, e l'intervista che fosse pubblicato in La Repubblica, che è ovviamente anticlericale in suo punto di vista. E' un esempio che ciò che il dialogo non è una conversazione con le persone, non con le persone, non con le persone che serve come una riflessione del suo ego. Ma il reale dialogo, il dialogo che è davvero necessario, che è la vita o la morte della planetà, è il dialogo con le persone che portano a differenze idee, che, a volte, anche con le persone che le idee apprendono, non rispondono. Ora, c'è una nuova necessità, è un'etica principale, ma, in effetti, la pratica che connessa a questo principale è una nuova domanda, e io voglio che trovare una risposta adecuata a questo domanda. Dico estremamente brevemente che, diciamo, il subito di quest'ultimo commento ha conseguito, diciamo, con una riflessione finale sulla migrazione a livello globale e, diciamo, le sfide che pone, ha paragonato per evidenziare le differenze, diciamo, la migrazione, diciamo, degli italiani, per esempio, verso il Nord America e l'America del Sud, alla fine del secolo scorso, con quella attuale, facendo notare che la migrazione, appunto, all'epoca era una soluzione globale a dei problemi prodotti a livello locale, mentre, diciamo, la situazione ora della migrazione, in pratica, viene chiesto in qualche modo di trovare delle soluzioni locali a dei problemi prodotti a livello globale. Quindi, diciamo, in chiusura, è indicato ad uno sforzo verso la cooperazione internazionale, facendo notare che è ormai una situazione permanente, quello di trovarsi a dover convivere in uno spazio urbano, diciamo, caratterizzato da una forte diversità culturale, dato l'esempio, quindi, della presenza di numerose etnie e persone di background diversi, per esempio, a Londra, e infine ha commentato, diciamo, con un piccolo annettolo, la prima, diciamo, o quasi la prima azione di Papa Francesco, che ha deciso di, come prima intervista, di, appunto, concedere un'intervista a Scaldi, che, appunto, è un'intervista, come sapete, della Repubblica, quindi di un giornale, diciamo, anche, diciamo, tra virgolette anche per tale, e ha ritenuto che questo fosse un esempio importante da tenere in mente, perché è un esempio del tipo di dialogo che ritiene sia necessario, ovvero, un dialogo non con le persone che condividono, diciamo, le stesse vedute, le nostre vedute, il nostro punto di visto, ma invece, diciamo, il tentativo di stabilire dialogo, un dialogo con persone anche con vedute fortemente diverse, quindi con vedute anche per tutto il posto, perché questo sarebbe, appunto, il tipo di dialogo vero per poi, diciamo, trovare le soluzioni alle attuali, diciamo, sfide che proviamo a affrontare. Grazie. Applausi. 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 si sentono il divorzio di imparare e politiche più di altri. Magari questo è il caso per l'Europa, dove viviamo in una situazione con un mercato, un mercato, un mercato e 28 politici e politiche. Magari noi stiamo facevendo, un'existenziale per l'Europa moderno civilizzazione. Per me suggesti che siamo come le Grecchie in polis, quando confronti con il riso del Macedonio e Romano, e come gli italiani cittadini di Nascimento, quando confronti con il riso del primo moderno state in Francia, Spagna e l'Umpire. Unite o pericolo. E due grandi civilizazioni, non sono riuscita a questa situazione. Non si sono riuniti, e per centrii erano fuori di varia della storia precedente in economica e politica. La situazione è la situazione che l'Europa è affrontato oggi. E questo è un risultato. E questo è importante non solo per l'Europa, ma anche per la loro. Per l'iscia che hai detto, come si riconcili politici e potere. In Europa, noi stiamo in una difficoltà di avere un pollo di sovranità in quanto riguarda il palazzo di potere come si è in l'Ukraine e l'Unione. Quindi, è Europa' importante per il mondo di offerere un modello di overcomare la sovranità che è un modello molto importante, ma è ancora un modello peaceful. I hope you have the possibility to continue this discussion tonight in Teatro Mecenate at 9.15 we'll continue discussing precisely this film at 9.15 tonight with a musical which tells the history of European integration and a debate about this crisis and how Europe can help us overcoming the crisis. La faccio in tre secondi la traduzione più semplicemente. È importante quella stazione in Europa per il mondo. Tondini dice che gli europei sono come i greci delle polis di fronte all'ascesa dell'impero romano e gli italiani del Rinascimento di fronte alla Francia, la Spagna e la Stongheria. La loro scelta era unirsi o perire. E due grandi civili europei sono morte su questa scelta. Non si sono unite e sono scomparsi dalla storia per alcuni secoli. È questa la situazione oggi dell'Europa e se vinciamo e perdiamo questa sfida. È importante per il mondo. In Europa stiamo provando faticosamente con tante difficoltà a creare un modello nuovo di condivisione della sovranità, di messa in comune della sovranità a livello europeo in maniera pacifica. Mentre nel resto del mondo vince solo il principio dell'equilibrio di potenza come vediamo in Ucrania in questi giorni. Questo è importante quello che fa l'Europa anche per il mondo. E poi vi invito a lui e a tutti voi questa sera a 9.15 grazie al Comune si continua a discutere esattamente di questi temi con un musical che racconta la storia di interazione europea e un dibattito su quale Europa per superare la crisi ottiene. Grazie. Spero che sia la domanda. Questo qua vuole più fare più avanzature. Noi, per questo, se preferisce rispondere a tutte e tre le domande insieme se ci sono altre domande. Noi, per questo, se preferisce rispondere in Europa. Europe, credo, è una grande esperanza che cosa sta succedendo in Europa e potrebbe avare la prossima in generale il mondo. Europe è una domanda e la storia in cui il problema di sviluppo creare le parti di Europa sono riusciti. e siamo arrivati con il maestro di Arendtso, che non ha invitato i migranti di altri paesi di Arendtso, ma sono arrivati all'interno per i processi globalizzati. e che si sono arrivati a fare un'accommodazione, un'occhiata, 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 un'occhiata per i ragazzi, un'occhiata che sono fatta con le forze locali. In un'occhiata è un'occhiata per problemi che non si creavano, e se volete o non, ci saranno il nostro modo. In un'occhiata è anche un'occhiata, un'occhiata in cui i nuovi modi di cooperazione tra diverse paesi, diverse culture, diverse tradizioni sono elaborati. Mind you, noi siamo un'occhiata, non ricordate come si era prima la seconda guerra in Europa. Io ero in Polona, ho vivuto la prima parte di mia vita là, e ho ricordato di essere freddo. E di tutti i paesi che erano in Polona, tutti erano un'occhiata da l'altra parte del mondo. Non c'era un'occhiata. che era un'occhiata che era un'occhiata che era un'occhiata che era il dell'occhiata che era un'occhiata che era un'occhiata che era un'occhiata di pittura su Polone in 1939, perché dell'occhiata di Hitler e dell'innovazione dell'Austria e dell'Irso. il suo lavoro. E' la verità del fatto. Ma ora quando si vede a Warsaw non bisogna ascoltare i nostri amici, non c'è preparazione per la guerra. E se c'è il rischio è così distante che la maggioranza è molto più molto. E' la capacità di trasformare le centrii lunghe e l'amici in un dialogo e cooperazione. Creare le realtà in cui separazione diventa più e più difficile e che l'intenzione devono essere attaccato. E' quello che fa il grande e semplice e importante experimento che potremmo 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 un'influenza del futuro dell'umanità. E' un tipo di donna che potremmo potremmo portare al resto delle persone e per loro è probabilmente il più importante di loro. del futuro come influenzare il futuro come potremmo di pensare che ho parlato di del nazionale ma di attraverso di attraverso attraverso il mondo di traduzione di investimenti di capitoli di attraverso la realità della vita di circolazione incontrò di circolazione di informazioni dei avvenimenti capitale dell'un mediale come di burocrat insieme dove ci spredano avanti attraverso attraverso è per stare a nostre pezzi. Potrebbe sembrare così, ma perché la realtà è stata che l'Europa è un'arma che protegge l'identità di tutti i membri Stati. Potrei provare da questo, e credo, credo, che l'identità di tutti i membri nella Unione Europea è molto più che in questo Stato dovrebbe stare solo senza aiutare. Quindi, è un'arma. 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 Non so, non so, non so, ma si ricordano il terzo. Durante la guerra in Spanio, General Franco ha detto che il importante è il terzo non il terzo armato che arrivano a Madrid, ma il terzo. non so, non so, non so, non so. non so, non so, non so, non so. non so, 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 è un'arma. È un'arma. in Europa in Europa there are troubles. First of all, ladies and gentlemen, the nation building process was not coordinated in time. you know, that in history of Italy you haven't even managed to finish it completely. I simply, I myself watched people from Milan when they came together to Calabria, which means they couldn't understand the Italian which was spoken there. so, which means that the process of the nation building was not finished. More than that, what is happening now, because, because the requirements to be for sovereignty are much lower now, which I mentioned before in my lecture, then very many regions of the nation state require direct communication with Brussels without going to the council of the council. So, you see, that's a one organizational problem which has solved. The second, the third problem is the crossroads of which Europe is now where to go. To run Europe unitary currency which is however run by 17 independent autonomous ministers of the first courage or discourage in history of human. No wonder that it is a latent object for all sorts of courage speculators. that's something which gift waiting something must be done. Some people speak of one minister of finances for the European Union. Is it like, is it possible? there are pro and courts. The coming European elections will show probably the following trust in the ability to deliver European institutions and probably a stronger voice of people who are skeptic in Europe. that is quite a real possibility if you judge from opinion polls of the future electorate. The structure of Europe on the one hand you have which is place of policy without politics. On the other hand you have European councils ministers where you have politics without policy. Now how to combine two things? No one yet resolved the issue but issue sooner or later we have to be first. Once again it is another aspect of interregnum but because of the importance and the complexity of European experiment it is more pronounced more serious more visible more tangible than it is in the other place. You have the same issues which face today in the world ever I think that Europe is in a duplice vol and a disc issue is the of the migration from other continent and this also on the level local the world have been to this the world has said that in Europe can be oltre a una specie di scarica dei problemi globali ha anche visto come laboratorio per sperimentare la convivenza, ha parlato della propria esperienza di vita, di vivere in Colombia prima della seconda guerra mondiale in cui c'era una grande diffidenza nei confronti dei paesi circostanti, questa non è più la situazione per i giovani europei di oggi e questo tentativo di cooperazione che l'Europa Unita rappresenta ritiene che sia una specie di lotte, un'eredità che può anche avere un'importanza a livello globale. Passato poi a parlare più nello specifico della situazione dell'Europa dal punto di vista dell'Unione europea, ha detto che da un lato i governi nazionali come abbiamo visto si trovano nel stato di spizio premio di doppio vincolo, ha detto che a livello europeo potremmo semmai parlare addirittura di un triplice vincolo, per semplicare l'idea sarebbe che chi si trova a lavorare a Bruxelles, i prodotti e i parlamentari europei si trovano da un lato a dover rispondere a delle forze che arrivano, per esempio dall'industria bancaria, dal multinazionale, dal flusso libero delle informazioni e dall'altro lato guardando invece verso l'interno dell'Europa si trovano a subire pressioni sia dai governi nazionali sia anche direttamente da realtà locali all'interno delle singole nazioni, per cui appunto il concetto credo di mio capito di doppio, di triplice vincolo insomma. E infine ha fatto diciamo un paragone con la situazione del generalismo Franco, insomma diciamo la situazione durante la guerra civile in Spagna dove era proprio all'interno del diciamo dell'ambiente pubblicano delle persone che diciamo votavano contro e si credeva appunto se anche diciamo a Bruxelles ci potesse essere persone, ci potessero essere delle persone che in qualche modo subivano queste questioni da parte appunto di forze non europee ma appunto manitarie, un'industria bancaria, multinazionale insomma forze non politiche. Infine ha parlato diciamo di alcuni aspetti organizzativi dell'Europa Unita, cioè insomma dell'Unione Europea diciamo questo problema appunto di dover rispondere contemporaneamente diciamo ai governi dei singoli paesi ma anche a realtà diciamo locali all'interno dei, insomma diciamo a livello per esempio delle regioni, cioè il comitato delle regioni per esempio a Bruxelles, quindi anche in contatto diciamo con Andrea Fa, diciamo a di sotto da livello nazionale e infine diciamo problemi autistrutturali diciamo per esempio diciamo un non perfetto coincidenza a diciamo le attività a Bruxelles e qualità consiglia d'Europa, non sto a ordine in particolare. Questo è il prossimo modo e poi... Applausi 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 Buonasera professore un'ultima domanda quale futuro e quale ruolo immagina per le scienze umane, per la formazione e per l'università in generale in questo contesto storico e culturale? Grazie 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 il stato è stato cominciato, in cui si è stato cominciato, in cui si è stato cominciato, in cui si è stato cominciato, e così via. Ma, persone che conosciano, a cui si è spaventato, è ovviamente il mercato, il mercato del mercato era ancora assolutamente un tarno, che i pure caratteri del mondo del posto che potesse fare, il mercato, con la sua mano invisibile, che avrò la strada, avrò la strada, avrò il risultato per la condizione. E poi è arrivato 2007, la colazione del credito, che è stata la truce della nostra propria Il misterio di 30 anni di lungo e continuo di prosperità. Mi chiamato la origine consumeristica. Mi chiamavamo che era un'illusione, che stavamo imparando un'earno. Stavamo imparando un credito. Ok, il Stato è già discredito, ora il mercato è discredito. Quindi chi si dice questo? Questo è un grande problema. Socrates? Beh, non si dice questo anche lui. Non credo sia un'illusione. Non credo sia un'illusione. Ma credo che le due forme di politica action, politica action che è, credo, di sviluppo, non di scoperta, ma di sviluppo, di sviluppo. Di sviluppo. È un'illusione. Non credo che non sia un'illusione. Non credo che sia un'illusione. Non credo che sia un'illusione. Non credo che la seconda questione è riguardo, il futuro della educazione. Inoltre, siamo viviamo in un momento molto critico. All'uomo in Europa, edizio di sviluppo, i nostri scoperta, a tutti i nostri scoperta, sono in un anno, ma semplice in un anno, ma sempre gli scoperta, sono in un anno. Sono in un anno, o sbattendo a un lavoro, non è un lavoro davvero, non è un lavoro con i prospecchi, ma un lavoro che è in accordo con le sue ambiti e le skilli che hanno avuto in studi. Ci sono anche una lista di nuovi problemi, di sviluppo, perché è davvero un nuovo lavoro. Dopo il Second World War, ogni generazione, ogni successo generazione, un'altra cosa è che non è. Si credono che il punto a cui loro Bivello, è stato un punto di старo. E loro si possono andare a fare più, abbiano più successo e più gratificazione. Ora abbiamo la prima generazione post-war, chi crede che sarebbero fortunati se ritenessero quello che hanno avuto il loro amici. Le loro ambiti, le loro vieni, sono stati costruiti. Le loro sono meno energetiche, meno self-continente, in order di dare avventure, in order di essere critico di realtà. Quindi, un nuovo problema, che è già iniziato. Ma vorrei dirvi che ci sono qualcosa che è diventato, perché abbiamo sviluppato questo, che tutti gli studenti di l'educazione, sono stati costruzati, interessanti, e le condizioni del mercato, sono stati costruzati un nuovo atmosfero, un'umanità, un'altra parte di preferenze. Ciò che non abbiamo avuto dopo una seconda guerra mondiale. l'instabilità, la flexibilità di lavorare, che è presentato molto molto spesso, e la soluzione ai nostri problemi, è infatti un'opposione. che è stata costruita un'unica situazione. Daniel Correm, il professor di Economia, in Sobonne, ha detto che quando un ragazzo, un ragazzo, un ragazzo, che si è venuto a Citroen, o Fiat, per avere un lavoro, che si può essere assicurato, che si può essere spesso in una stessa compagnia nel prossimo 40 o 45 anni, e poi si può restare con una gold watch, con una memoria o fattuale servizio. Ora, in Silicon Valley, Silicon Valley, che è l'obiettione dei miei, l'obiettione dei miei, dove si può fare le cose, dove si può fare le cose, le cose che si può fare. Ora, in Silicon Valley, l'armero di lavoro è 8 anni. Ora, questo tipo di disabilità crea delle questioni sui problemi di vita. che mi ricordo, che mi ricordo, i miei ragazzi, i miei ragazzi, i miei ragazzi, che abbiamo visto, avidamente, che Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, che era un filosofo per la generazione, e che ci ha consigliato a preparare, a scrivere, per uno stesso, quello che si chiamava, un progetto della vita, un progetto della vita, un progetto della vita. che sia un progetto di persona, che voglio essere, e poi, a trovare le mani in cui posso fare quello che voglio essere. e che voglio essere, che voglio essere un progetto di ma pro-share per il prossimo anno. La situazione di valori morali è anche che poi è stata interpretata dal professor Bauman come domanda su chi ci salverà, partendo dalla crisi del 1929 di Wall Street, che appunto per sottolineare che all'epoca ci si aspettava che sarebbe stato lo Stato a salvarci e quindi ha fatto notare come delle varie realtà nazionali o nelle unioni sovieti con i piani confinale, diciamo l'Italia, diciamo l'economia programmata, negli Stati Uniti, Roosevelt, Roosevelt con il New Deal, diciamo degli interventi a livello del territorio, diciamo, a livello statale. Questo che ha portato dopo la seconda guerra mondiale allo Stato sociale e che poi ha dato in crisi negli anni 70 quando è stato capito che né lo Stato né la mano invisibile del mercato sono in grado in realtà di salvarci. Quindi ha mostrato, ha espresso fiducia che nuove forme di azioni politiche potranno, diciamo, offrire soluzioni o comunque vie di uscita, facendo notare che lui personalmente non sarà presente probabilmente ad assistere a questo momento successivo, diciamo, a quella presente. Ha portato alcuni commenti, diciamo, in merito alla domanda posta sul ruolo delle istituzioni superiori, delle università e delle scienze umane in generale. Questo è, diciamo, stato, diciamo, un'occasione per riflettere su come la situazione per gli attuali laureati sia profondamente diversa da quella delle generazioni precedenti, notando che forse avrebbe dovuto annorare tra i problemi nuovi e quella appunto del, diciamo, del diverso scenario che, diciamo, in cui si trovano, diciamo, muoversi i giovani, diciamo, in generazioni passanti, diciamo, si dava per scontato che ciò che era stato raggiunto dai propri genitori risultava un punto di partenza per poi fare un passo suggestivo. La situazione attuale, diciamo, per esprimere la mia epoca, tende a tappare gli anni, diciamo, ai giovani che hanno, quindi, diciamo, effettivamente meno stima nelle proprie capacità e ritiene che, diciamo, le sfide del mercato di lavoro, il lavoro flessibile, l'instabilità, diciamo, che si presenta, rende molto difficile per i giovani, diciamo, elaborare per sé ciò che lui e i suoi contemporanei, diciamo, si trovavano ad elaborare, diciamo, diciamo, in gioventù, su invito appunto dal filosofo francese Jacques de Sartre, che aveva, appunto, invitato i giovani ad elaborare un progetto della D, cioè un progetto per la vita, in cui si riteneva di cercare di immaginare la persona che si vorrebbe, diciamo, diventare da grandi e facendo notare con l'attuale situazione, diciamo, del lavoro e del mercato, dove, per esempio, anche nella Sera Pondalli, la durata media di un impiego con le mesi e un'azienda di otto mesi, è effettivamente difficile elaborare un progetto per la vita e forse dovremmo pensare più intanto ad un progetto per l'anno prossimo. Credo che, a nome del progettore dell'Università di Siena, la nostra direttrice del Parlamento, la Sessione Magri, di tutti, e credo che dobbiamo ringraziare il professor Guamondi, all'inizio ho detto che le sue letture, la sua lezione, ma qua sono state più di una lezione, stasera sarebbe stata estremamente importante in materia di riflessione, e credo che l'ultimo ringraziamento spetti, la persona di cassa, ovviamente l'elettrice è noto di trattamento, ma io vorrei ringraziare il professor Guamondi, per le mie leccure, le mie ricordiamo, e sono molto felice di rendere il professor Guamondi, e ho scoperto il professor Guamondi, e di venire il professor Guamondi. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.